Vi sarà capitato nel corso del tempo di domandarvi da dove proviene questa meravigliosa luminescenza che mi colora le guance. Ebbene oggi vado a raccontarvi con che cosa illumino il retro del mio set. Ciao a tutti amici bentornati sul mio canale, io sono Cesare e anche oggi ci occupiamo di fotografia ma anche un po' di video perché andiamo a recensire un prodotto che vi faccio vedere subito. Questo è un prodotto che non è nuovo. Questa qui è la RGB Tube Light di Godox, un prodotto come potete vedere abbastanza piccolo, non voglio dire tascabile, una tasca ci starebbe ma sarebbe fastidioso, però è un prodotto leggero che possiamo portare con noi con estrema facilità. È un prodotto che si rivela essere molto versatile e a parer mio anche molto potente. Prima di addentrarmi nei dettagli vi ricordo che se argomenti come questo vi interessano potete supportare il canale semplicemente iscrivendovi, cliccando il bottone qui sotto e attivando anche la campanella per non perdere le notifiche. Un like a questo video parimenti da una grossa mano. Molto bene, io qui ne ho addirittura due e voi vi domanderete come mai ne hai due in mano se ce le hai anche dietro. Ebbene perché queste mi sono state prestate dall'amico compositore Davide Scuteri di cui vi lascio tutti i rimandi giù in infobox. È il nostro consulente musicale ed è un eccezionale sound designer e siccome queste al momento non le sta utilizzando me le ha gentilmente prestate e quindi io adesso posso recensirvi queste senza rinunciare all'illuminazione sul mio sfondo. Ma andiamo a vedere la ragazza come si presenta. Spero che riusciate a vedere. Qui abbiamo una pulsantiera su cui abbiamo una rotella per fare le selezioni e abbiamo tre bottoni di cui uno è accensione e spegnimento. Faremo un pezzo di video con la luce spenta in maniera tale che possiate rendervi conto di quello che sta succedendo. Cominciamo col accendere la nostra luce. La nostra luce si accende e come potete vedere in questo momento è impostata su rosso. Intanto io vado a premere il pulsante mod e così vado a ciclare attraverso tutte le varie possibilità. In questo momento mi sta facendo un lampeggiante automatico. Non so se riuscite a vederlo. Cambia colore da sola. Quindi ha diverse modalità. Noi abbiamo la possibilità di impostarla su luce fissa. Abbiamo la possibilità di impostarla anche su luce variabile. Io adesso torno a premere mod e così è impostata su luce bianca. Una luce bianca normalissima di cui io con la mia rotella posso impostare la temperatura. Quindi ora abbiamo una luce fredda e qui andiamo verso una luce calda. È molto molto utile questo giochino perché così possiamo impostarlo con la temperatura in Kelvin. Quindi andiamo da 6500 Kelvin fino a... sarà 3500? No, fino a 2700. Quindi da 2700 Kelvin a 6500. Quindi molto molto caruccio. Premendo di nuovo il tasto mod andiamo alla modalità RGB che è quella che io preferisco. Con la pressione della rotella di selezione possiamo passare tra le funzioni di tonalità e le funzioni di saturazione. Quindi io posso andare a selezionare la tonalità e quindi adesso se io giro la mia rotella vedete che posso andare a selezionare un colore ben preciso. Quindi posso scegliere il colore che voglio lungo tutto lo spettro RGB. Questa è una cosa molto molto utile. Secondariamente con una pressione della rotella di selezione passo alla modalità saturazione. Ora la saturazione è a 100%. Ma io potrei diminuirla e vedete che man mano che scendo, ecco così siamo a 30, vedete che siamo passati da una luce molto blu a una luce bianca con un po' di blu. Posso riaumentarla e vedete che torna a saturazione 100% e torna a essere completamente blu. È veramente uno strumento molto carino e a mio avviso anche molto potente e le batterie durano un bel po'. Tant'è che io riesco a farci, sapete che io produco i miei contenuti qui in studio usando queste due luci, riesco a fare due video da 30 minuti l'uno. Quindi cioè che poi magari sono 30 minuti di ripresa poi magari escono da 20, da 15 a seconda però hanno un'ora di ciclo di batteria quindi non durano poco. Per quanto riguarda il ciclo ovvero la modalità con la luce variabile è anche impostabile quindi io gli posso dire quanto deve durare il ciclo, gli posso dire che colori deve usare, insomma ci sono tutta una serie di funzioni carine. Il terzo bottone quello di cui non abbiamo ancora parlato si chiama DIMM ed è la modalità dimmer ovviamente. Quindi se io sono su RGB per esempio e premo DIMM a questo punto posso gestire la potenza. Quindi vedete che andiamo da zero, da molto bassa, andiamo su verso il 100%. Io di solito queste le uso a 100% perché voglio dare una bella botta. In questo momento è a 100% con tonalità 210 e saturazione 100%. È completamente impostabile quindi ci si può fare esattamente quello che si vuole. Ora se noi ne avessimo due io potrei per esempio andare a impostarle su 209 100 e qui vado a impostare quest'altra su 29 100 e queste le riconoscete sono esattamente i colori che ho alle mie spalle. Per cui se io facessi una cosa del genere vedete sto andando ad aumentare il potere delle luci che ho alle mie spalle esattamente con lo stesso colore. Questo è molto utile perché se io posso impostare esattamente lo stesso colore sulle mie luci posso sommarle in maniera precisa e perfetta e andare a fare degli effetti di colore che altrimenti non riuscirei a fare. Queste due potrebbero entrare a far parte del mio studio in maniera tale da aumentare la luminosità sullo sfondo per esempio o fare altri giochi che andrò a studiarmi di volta in volta perché comunque bisogna anche vedere poi se mi piace, come viene fuori, come voglio mantenerlo. Questi colori a me piacciono molto sono i colori istituzionali che utilizzo un po' in tutte le mie comunicazioni quindi credo che li manterrò anche perché comunque ormai ho anche stampato delle cose con questi colori. A proposito per chi se lo fosse perso c'è in esclusiva su Amazon il mio manuale di fotografia di interni che mi rendo conto ha un bel costo però è anche una lettura abbastanza densa per cui se vi interessa l'argomento io vi consiglio di andare a dargli un'occhiata. C'è sia in versione copertina rigida per fare gli sboroni sia in versione copertina morbida che costa un po' di meno. Sono mortificatissimo ma Amazon ha appena aumentato i costi di stampa e quindi ha alzato anche i prezzi dei miei libri quindi non dipende da me purtroppo. Io non posso decidere il prezzo perché posso deciderlo entro certi range. Potevo farvelo pagare 200 euro ma ovviamente non l'avrebbe comprato nessuno ma non posso farlo pagare meno di tot perché ci sono i costi di stampa imposti da Amazon. Bene ma eccoci ritornati in studio per qualche considerazione finale. Una cosa che non vi ho detto questa è una luce ovviamente con una sua batteria interna che si ricarica tramite il cavetto USB-C che viene ovviamente fornito non viene però fornito se ricordo correttamente lo spinotto quindi come sempre danno per scontato che lo spinotto ce l'abbiamo già da uno smartphone o da un altro device. Quindi abbiamo il cavo ma non abbiamo la presa da muro quindi dobbiamo infilarlo da qualche parte. Va bene anche il computer e si può ricaricare anche via computer. Un'altra cosa un'altra feature molto interessante è che ha le viti. Qui ha una vite per lato con il passo quello fotografico normale quindi noi possiamo attaccarla su uno stativo su un treppiede che è quello che faccio io per l'appunto. Possiamo anche fissarle tra di loro perché con un particolare adattatore con semplicemente una vite doppia possiamo mettere due di queste una sopra l'altra e così rimangono saldamente fissate e quindi a questo punto possiamo crearci una vera e propria spada laser con due o tre di questi affari. Esiste anche la versione più estesa quindi se il nostro obiettivo è averne uno più esteso è meglio comprare quella più estesa però così manteniamo molta versatilità e siamo comunque in grado di estenderlo in questo modo. Un'ulteriore cosa che vi vado a dire che secondo me è importante è che sono calamitati. Vedete qui scatta e rimangono in posizione e se io se io li metto in questo modo vedete che sono calamitati e rimangono attaccati uno all'altro. Questo che cosa significa? Che possiamo attaccarli fra di loro assolutamente sì ma anche che possiamo attaccarli a qualcos'altro per esempio potremmo attaccarli a un armadio metallico o a un cancello metallico insomma qualsiasi cosa che abbia delle proprietà per cui viene attratto da queste calamite può diventare una superficie su cui noi attacchiamo queste luci. Io le ho viste usare come luci da lavoro per esempio in officina proprio cioè in officina invece di prendere le luci professionali che sono meglio per l'officina queste cose le ho imparate dall'amico luca di 9000 giri che saluto come sempre. In officina hanno delle luci che sono professionali quindi con una batteria con una certa durata e con certe caratteristiche probabilmente costano anche di più di queste se noi vogliamo prenderci una di queste anche per un utilizzo professionale in officina e la attacchiamo su un supporto metallico che sappiamo noi su una mensola su qualsiasi cosa sulla cassetta degli attrezzi se è per quello queste funzionano benissimo hanno una durata di circa un'ora quindi comunque anche un tempo con cui si può lavorare e poi possono comunque continuare a lavorare stando attaccate alla corrente con il loro cavetto possono continuare a lavorare anche durante il tempo di ricarica quindi secondo me sono un prodottino molto molto caruccio prodottino che me la sento di consigliare ovviamente dipende da che cosa facciamo tenete conto che la potenza non è scarsa sono abbastanza potenti però non è che illuminano a giorno e soprattutto la potenza varia a seconda di quello che ci stiamo facendo perché se le stiamo utilizzando in modalità luce bianca hanno un'emissione di un certo tipo se usiamo le luci rgb è la luce rgb a quel punto ha un colore e il colore è soggetto alla nostra percezione che cosa significa questo che nel momento in cui impostiamo la luce bianca avremo una certa percezione dell'illuminazione che questa luce ci fornisce e sarà più alta di una luce blu per esempio la luce blu per sua stessa natura è un po meno potente perché è un po meno visibile al nostro occhio la luce gialla ci risulterà più potente rispetto alla luce blu così come ci risulterà più potente rispetto alla luce rossa perché a seconda della gradazione di colore che scegliamo avremo una percezione diversa di quanto questo colore sia presente un'ultima doverosa precisazione io utilizzo questa strumentazione quasi esclusivamente per video ma anche per fotografia perché se è vero che io posso usare queste luci continue per illuminare una scena che sto riprendendo e posso impostare la temperatura colore in maniera tale che voglio una luce daylight imposto la temperatura kelvin della luce del giorno e la mia luce matcha perfettamente oppure sto facendo una foto in interni di sera con luce incandescenza e magari voglio fare una color correction dopo oppure voglio impostare una temperatura in camera in maniera tale da mitigare quelle luci gialle ok però imposto le stesse luci gialle anche sulle mie godox tube light in maniera tale che quando vado a fare la correzione la faccio su tutte le luci perché se io ho delle luci a incandescenza e imposto queste su luce bianca e poi quando io vado a correggere l'incandescenza la luce bianca diventa azzurra quindi le devo impostare uguali per avere una correzione colore uniforme è molto importante quando si fa video e anche quando si fa foto perché sennò poi diventano cose complicate da correggere si possono usare anche per fare fotografia magari con uno shutter molto lento e si possono fare dei movimenti per creare delle forme pieno di tutorial o di esempi su qualsiasi social ci venga in mente ci sono un sacco di belle cose che si possono fare con una luce come questa io la sto usando da credo due anni ormai e comunque non perdono colpi la batteria non perde colpi continuano a funzionare non hanno cali non hanno sbalzi di colore quindi secondo me un bel prodottino ovviamente se andiamo a guardare i materiali di costruzione non me la sento di dirvi che sia robusta cioè non possiamo farci una battaglia con questi perché si rompono pressoché immediatamente secondo me però il punto è sempre quello anche la cosa più bella del mondo se la usiamo come mazza per per sfondare un baule si rompe quindi queste se le trattiamo bene io vi garantisco che superano tranquillamente i due anni secondo me arrivano anche a cinque senza troppi problemi ovviamente se le buttiamo in una borsa con dentro dei cavalletti pesanti di metallo a breve le salutiamo perché poi si sfondano ultima cosa che vi dico che però non vi faccio vedere perché ho queste cose le odio è anche possibile connettersi via bluetooth a un app da cellulare con cui possiamo comandarle via cellulare ora io questo non lo faccio perché lo imposto una volta e poi le lascio lì e a me l'importante è che producano sempre lo stesso colore se vogliamo fare delle cose particolari però se vogliamo programmarne tante metti magari che ne abbiamo dieci cioè adesso ne ho due quindi cioè due è un attimo giri la rotella e amen se ne vogliamo programmare 100 tutte insieme a quel punto le connettiamo tutte all'app e a quel punto da cellulare possiamo farle variare tutte quante insieme possiamo programmare delle cose che facciano tutte quante insieme senza più doverle toccare tutte a quel punto lo farei anch'io ovviamente perché a quel punto diventerebbe comodo anche se io odio avere il cellulare impegnato per gestire l'app preferisco averlo per fare un biroll o per fare altro o per mandare un messaggio insomma è un telefono a me deve servire come telefono il fatto di averlo immobilizzato perché lo sto usando come console mi è sempre stato un po qua quindi cerco di non farlo però c'è anche questa possibilità che vi segnalo a questo punto fatemi sapere nei commenti se strumentazione di questo tipo riscuota il vostro interesse se magari ce l'avete già se la usate per qualcosa se vi ho aperto un mondo perché comunque sono delle belle cose abbastanza sono nuove però sono abbastanza moderne e secondo me ci si possono fare delle gran belle cose fatemi sapere se vi vengono idee creative per utilizzarle magari ne facciamo vedere qualcuna anche qui sul canale amici io vi ringrazio tantissimo di aver passato un po del vostro tempo con me e vi do appuntamento al prossimo video